Ha consentito di scoprire l'indebita percezione da parte di 285 extra comunitari del reddito di cittadinanza per un importo di oltre 2,3 milioni di euro. L'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che coordinato dalla Procura partenopea, oggi ha notificato sei arresti, quattro in carcere e due domiciliari, ad altrettanti presunti appartenenti ad un'associazione a delinquere con base nel capoluogo partenopeo. I reati contestati sono a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio. Le persone che beneficiavano del reddito avrebbero dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni. Eseguivano acquisti simulati di alimenti con le carte post-pay e poi si facevano restituire la somma pagata in contanti. Alla banda di truffatori spettava una quota variabile tra il 10 e il 20%. Il meccanismo prevedeva l'uso di fatture false emesse da una società in realtà non operativa e proventi di questi illeciti poi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili da intestare alle rispettive mogli. Inoltre è emerso che le persone arrestate avrebbero anche prestato denaro a un tasso usurario variabile dal 30% ad oltre l'800%. In totale sono 15 le vittime di usura, tutte in gravi difficoltà finanziarie, minacciate e aggredite quando non rispettavano le scadenze dei pagamenti. Le fiamme gialle hanno inoltre eseguito perquisizioni e sequestrato appunti manoscritti denaro contante per circa 92.000 euro, nonché assegni bancari e titoli cambiari, per un totale di circa 158.000 euro. Eseguito anche il sequestro preventivo di disponibilità finanziaria e nonché di beni mobili e immobili per un ammontare complessivo di circa 90.000 euro. Durante gli accertamenti investigativi erano già stati sequestrati l'intero capitale sociale e il complesso aziendale delle società degli indagati.